Sono tra le eccellenze pavesi premiate oggi, 23 luglio, per meriti sportivi. La società sportiva Ginnastica Pavese, la società calcistica Pavia Academy e la ginnasta Greta Riccardi. Una bellissima giornata per lo sport pavese, siamo qui a premiare due squadre, due società sportive della nostra città che hanno ottenuto nei rispettivi campionati un grande successo, con due promozioni, quando c'è una promozione indipendentemente dalla categoria in cui si milita e da quella in cui si viene promossi, secondo me sono una grande soddisfazione perché il significato è quello di aver affrontato tutta la stagione sportiva con sacrificio, dedizione, allenamento e quindi è giusto che queste società vengano premiate per i risultati ottenuti in ambito sportivo. A ciò si aggiungono allora queste due società, si aggiunge anche un riconoscimento speciale ad un atleta, ad un atleta che nel 2017 ha subito un grave incidente e che ha rischiato di vedere compromessa la sua carriera. Mentre invece oggi alla guida della squadra che è stata promossa in Serie B ha dimostrato di avere non solo tante caratteristiche e capacità sportive non comuni, perché i risultati li ha ottenuti, ma avere anche una tenacia formidabile, una forza formidabile perché un incidente grave come quello che ha subito lei avrebbe stroncato probabilmente la carriera a chiunque, lei invece ho letto anche recentemente delle interviste sui quotidiani anche nazionali che hanno dato ampio risalto alla sua storia che è una storia non comune. Per questo abbiamo deciso di conferire alla squadra il riconoscimento per la promozione e a lei il riconoscimento per averla guidata ma anche per quello che ha dimostrato nella vita, il carattere che ha dimostrato nella vita. Una grande emozione soprattutto perché la squadra che è passata in Serie B era composta da tutte ginnaste che sono nate e cresciute all'interno della nostra società, quindi Serie B, tutta società ginnastica pavese. L'obiettivo per il prossimo anno innanzitutto è fare bene, cercare di fare il nostro 100% e vedere come ci posizioniamo all'interno di questa serie che per noi è la serie cadetta e siamo felici di aver raggiunto questo risultato proprio perché come diceva la signora Marchesi sono tutte ragazze cresciute a Pavia, cioè non è la prima volta che ginnastica pavese raggiunge questi obiettivi però questa volta diciamo che è tutta roba di pavia e quindi siamo veramente felici. È una giornata molto piacevole, raccogliamo un premio che ci fa molto piacere, sono stati sacrifici, il Covid come sappiamo tutti ci ha rallentato, ci ha messo nel limbo, almeno nel nostro caso, per un anno e mezzo però finalmente ce l'abbiamo fatta e siamo in Serie C.